Con la vista più bella dal mio punto di vista della capitale siamo a Villa Amiani per l'evento della forum della Coldiretti dove questa mattina sono arrivati una serie di ministri, il ministro Lollobrigida, il ministro Tajani, la ministra del lavoro Calderoni, in questo momento è arrivato anche il ministro Salvini. Ovviamente il tema che è stato più volte trattato durante i panel è quello legato all'argomento scelto proprio da Coldiretti per questa giornata particolare ovvero quanto la guerra possa aver inciso sull'agroalimentare. Però noi giornalisti eravamo interessati anche al caso politico che domina nelle ultime 24 ore ovvero il caso Frecciarossa perché il ministro Francesco Lollobrigida secondo lo scoop tirato fuori dal Fatto Quotidiano è sceso alla fermata di Ciampino, un Frecciarossa che però era stato destinato su quella tratta perché appunto c'era un ritardo forte di 100 minuti. Le opposizioni anche questa mattina alla Camera hanno chiesto che il ministro Salvini o comunque il governo ma in modo particolare il ministro Salvini riferisca in aula e soprattutto nella giornata di ieri sono state chieste le dimissioni del ministro Francesco Lollobrigida che proprio questa mattina come avete sentito nel nostro live ha risposto Io non mi dimetto, ha cercato anche di gettare acqua sul fuoco il ministro Tajani e quando è arrivato il ministro Salvini lo abbiamo incalzato e vedete cosa ci ha risposto. Ministro si ferma? Ministro le possiamo solo chiedere se riferisce in aula come hanno chiesto le opposizioni sul caso Lollobrigida? Buon lavoro